Sono profittati per il tuo piede, sono profittati da un'ultia che avevo con i miei, che avevo in un'arca di una sottotica e un'arca di un'arca di un'arca di un'arca di una sottotica. che è fitto con un frattulo guatti e che è talamalo o è fono a a dire che è talamalo o è rotu come talamalo è a co che è falso guatti è calopolo calama, uiloa questo fu una fono a lo aú e che è malo che è salpolo a e purianatoma e a e che aveva una fono che gli acero e che aspetti e che ci permette e che fai a tuoi che pareva a te. e che cosa che questo me pre qui che ci ha è felice che ci ha è felice che è? che fai è Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 quindi ci sono un'esplosione in questo tipo di interesse. Quindi ci sono un'esplosione che si è un'esplosione che sono un'esplosione ma e se si è un'esplosione che vivono. e non è mai più. E' un'altra cosa che si chiama, che si chiama, che si chiama, che non mi amai di aere. Qui che il mio, che si chiama, 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 Come si vedi un po' inizia. Non so che un po' inizia. Ma inizia il nome mi ha detto che ci sonouliati come va del aiuto. Ma inizia anche il tempo che ci sono stati oligliati. Ci sono stati toste da un paese che ci sono stati che c'erano. Tu ci sono stati a vedere, il tempo che ci sono stati Terminati che ci sono statiろう. Ci sono stati stati di trovare al mondo, ma ora sotto un po' inizia. che ave qui è pia. Fa-oha, l'hoè siamo fanno forte, che fa-oha, allora e se mi ha piotto. Perché è che quando gli ho pensato, che aveva un mato bocato, che aveva un po' di rippo, che ha fioca, il mio è un mato come mai, perché è che gli ho pensato come, che aveva un po' di più che, che è affioteare, ma non è appena, ma narao. E questo è un'awea che è il capiretino, ma è lìa. Perché poi inica fa un'enicai che fai ha to'e saukuro, ma a to'funafonua, perché è fai a tueni, a movederete, mo'e holofa e caldemokarati, giri, fradudamaki, mo'e maumawahi, o ne osifaipe ea maumau. Hangapea he daudemokarati, i he e ne hara, hara he uhinga, hara he pōngana i kamaita mai haki. O ne hangapea o kei keina pe a loto mo kitautoro. Kei keina e moui e whonua, kei keina e moui o e ngāhi, o e paati, o e ngāhi paati, o e che ne ha o kei ke taufato ngai, o e ke tauhangape taudo e taufato e o mea koi atu. O kei kōa ea mo'e fa'unga, o do ngā, mo'e fa'unga kuena e fa'u e tupo uwa ki. He? la Par experienced manufica un po' di coloro ma è attachato un po' di coloro e immagino, come amici come una filosofa, come un po' di solito o come un po' di coloro non è affabati si chi ha fatto il loro presto, sembra di fare più l'elemento. Come si chiama l'elemento, si chiama l'elemento per il loro voinderanno. ... 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 Il mio orgiorno di un altro po' ed è vera, non è vera per dirlo. Quindi voglio dire che io non voglio fare un altro pollo, ma che non voglio creerlo perché, quindi secondo voi, se metto il mio orgiorno, quando voglio fare un pezzo a teore, adorare i altri segni di notare, nei loro abitiamo, arriva per tutti i nostri articoli. con le filoso che dovevano raccogliare un po' di Presents. In oggete nel mio figlio. Questo tra i quali si sono avuto, La vita è stata di un'esercizio che il suo lavoro e il suo lavoro. Sì, non si è un lavoro che non solle, ma la vita è stata di un'esercizio. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Fonga Fonga Fogdu A parte di fabricare E c'è fare La terra Ma di te La terra La terra La terra E' la terra E' la terra e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info e quindi i nostri amici di attimisi che a un'attimisi è vero che il nostro volto. Ma anche quando ci sono un'attimisi, ma che non si può fare, che si è un'attimisi che si può fare. Ma direi che è un'attimisi è un'attimisi molto attuai. Attimisi che un'attimisi ha fatto che il nostro avviene di un'attimisi. Soprattutto il fatto che non si invente la tempra, il fatto che si non a fuori, a fuori poi, non si vede. A fuori più di arrivare a fuori un po' di evi, sono così. Ma un po' da quella conoscenza che non di qualcuno sono lì per questa pianta. Se si vuole un po' di, un po' di evi per questa un po' di tempo. E io un po' di casa, le faccio di trovare un po' di, ma non ho voce, ma si ho citato questa linea, che poi hanno fatto un po' di casa. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Nihangai o keina ki tautoro. Nihangapangatupo e faihara moe. Ngawehanga ke mafai moe paanga. Hea kui kai ke hoa ia moe faunga e whonoa. Hea kui kai ke hoa ia moe kone istutone. Hea kui kai ke hoa ia moe raha. Nihangai mae ki aiai taufaawitupo uloati. Tufungaia ai toko zaha uku ui e Aristotoro koi makkola sukus. Koi toko zaha uwa nekha stetsine. Hea. Kui taufaatu po. Tawo atawto mu etawta iro o aia mea koi batina. Per quanto riguarda la mia vita, per quanto riguarda la mia vita, ma la mia vita è molto più grande, ma la mia vita è il problema, per cui quel difetto fa parte. Ma che cosa fa fare, per quanto riguarda la mia vita, è la mia vita, perché la mia vita non è mai fatto. che si immagino l'elea come un po' che si fa male sai, c'è un po' che è 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 un po' che Non si è stato un po' di confinanza, ma non c'è il problema. Non è stato un problema. V primera persona, con le conferenze. Non ha bisogno di fare l'attenzione. Non ha bisogno di farlo, non è potente farlo, e non farlo in mano. No cose che diventano a fare l'affinanza e spero. Aما c'è l'affinanza, di venire. una ipolla fra pati na tramala it beppe no fra pati mica vangio di modo specifico ma che cos'è il rotto e nato che fra pati ma il framalo hì bene sulla colonia in alto luogo è fido con un'esquerda ma è il prego il pote muto e lo fra malo hì che è la bambina è un'autogo, è lo miglio e l'amico ma è il prego 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 cos'è il rotto, e lo è malto qui si ha amato il reto Non era qualcosa, ma l'amore dei compagni di ripropa позволiare. Non era un'estima a una situazione. E non si parava con i sistemi. Non lo spavolivano. Si parava che ci spiritsano. Non era un'esima di parte. Non era un'esima. Ma sono qualcosa di piano. Poi, non è il suo contesto. Ma che prende tutti i cittori? Perché i batti sono sempre pronti e non ti prende. Perché, mentre ha la fanno, gli spetti, Poi poi avuta a che mi faccio, Chi ha lociese. Chi ha lociese? Chi ha lociese, chi ha lociese? Chi ha la 4? Chi ha lociese? Chi ha loango? Ora finirà se potrà fare della famiglia. . Ora si è piaciuto oggetto, buona gamba, bambini, non lo so lo so. Noi, più a più a più. Sì, il quackino patti. Sì, il quackino patti. Perché i ragazzi c'è il quack. E la ragazzi c'è il quack, si c'è il quack, si il quack. Il quackino patti, e il quackino, è il quackolo. Come fu, come fu anche, ma sono. Siamo insieme, non ci sono ancora più diverse. L'oriente doveva fare meglio fare due partes. Questa cosa si 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 è . La cosa si 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 sa e cosa si 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 si. Noi non le hanno parte. Poi, le hanno parte di tutto lo mio, e una cosa si 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 si. Ma poi pot hawssimo, per questo direttore non lo sono. Vai mai ai paati... Perché non si è diverso l'intenzione ma la madre tra i la mia prevedorose? L'intenzione è fastidiva, ma non si la parte merda di ponte, ma non si è diverso, ma non si è diverso, ma non si è diverso. la mia amore sono stati la mia amore non c'è la mia amore Ora, pureate, 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 sarà così, quello che raggiungi poichano. A poco fa corso un interno con miglia, a poco farmo con miglia, ma fa scopriando il mondo. A poco ha visto io, come sono andati all'improvciati con i meti, in cui se si deve intendere. Non è ancora importanti, fino a non si è bacca, non è ancora importante, e non sono molto più state, a noi non le rimane, però non le granitende e non le succedono a noi. Ma cosa è l'idea che quasi a gente... Deve essere arrivato nella nostra regione, noi avevano, un'altra parte di morare, avevano un'altra parte anche del nostro corrispinto, che ci sono un'altra parte di sociale e ci sono un'altra parte di più di soli. No, 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 no. No, 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 no E tui, che ngahi, tefito, iwhakakaukauleleichaha o e tembo karati. E guan mwai neve, guan mwai puu puu mwai esi lina e tembo karati. Fie maweke, ua omae e kitoona. Tuo omae pe, ai, e ii mwai koula, e koi nera e unu unu mai, e tu pa uloaki da mwamisa peka. Unu unu mai pe koula, e fa uakie, e fa unua fa politica, e mwai dia. Ho hoa mwai koula ko. Cor pa tik, ai koi neraen koula, ai, koulai koula, ai, kouli, iu, moi, omae ai, puu puu, moi, ii e assimina, moi, ue, le, que oké, meh e tembo karati, a buri, hoe, yo se inna tipo. Caino, a kai itu, a kai haitiii. Pero miabog gokoko, ko no, oknia, e kere kere, na fa, uakie xoonuakko e ora, o, a dirimitato. Na fa, uakie xoonuakko e ora. I s'porr, u dying, a moe por, estpo, o baio, ua moe cao. e quindi noi faccio un po' di loro e non mi parla di loro, senza più, senza più di noi. Ma non mi parla di noi, non mi parla di noi, non mi parla di noi. E' un po' di noi, per cosa stiamo facendo la storia e di noi stiamo facendo la storia. Perché se non si tratta di noi, ci si tratta di loro, non si tratta di noi. non c'è così, e questo per questo, ma faremo che sembrava sanno nel video che abbiamo aggiunto la loro famiglia, il loro stesso tempo ma faremo bollomato la loro famiglia di attorno per il loro e le loro famiglia, il loro che viene in questo modo ma faremo, ma faremo bene, non faremo la loro famiglia quindi normalmente si sono fatto tutto, non è 경우a Grazie a tutti i nostri conti. che che ne chiama o a, che c'è o che, che è un'attore, non è il tuore. Ho e qui è il tuo lavoro, dove si è morto, voi che non li ho capato, io sono nangosana, io sono i chiocchini, si è morto, se non si è morto, se non si è morto, non si è morto, se non si è morto, se non si è morto, se non si è morto, ma non si è morto, ne sono i morti. 주�gani idzie a mea codotopi mo'e showa pafa mo'e ama, ta utaudi i ba'amo, o sta a ona ka toa, siena e Uhingape kè fai, hano fa u ke fai ake aai, hai propaganda mullire tonua. cerane un Uhinganere fra politicaari, ei l'ai ase, ho coi'ke hoaia mo'hamea eh. E a koi ke fu i ha kauda e vaiakoui, o koutu o tamo lo aou. Tuk e maupol gama guani alohaou gli hema, si non si spede il nostro corpo, non è possibile fare il nostro corpo. celi il nostro corpo, tutto il nostro corpo, se ci vogliono, quando ci sono stati delle parti, di cui abbiamo fatto un elemento, di cui abbiamo fatto un problema del corpo, ... ... ... ... , , la mia cosa amava il sistema esbita insieme a una 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 esbita ed è una cosa che dice Quindi se faccia una cosa che face a una altra cosa. E quando lo haggiato, la proposta di Stratunio è potente. E quando la proposta di Stratunio, la proposta di Stratunio è potente di Stratunio. Cos'è che si toccò un asfitto, tà, dice tà. Fili è che cacà io toccò tà, fili è che cacà io toccò tà, perché non opero, perché non c'è. Cos'è fa un'è, non c'è. Cos'è non c'è. Cos'è non c'è, non c'è. Cos'è non c'è, non c'è, non c'è. Cos'è fa un'è, non c'è. Cos'è fa un'è, non c'è, non c'è, era un'è perché… Ecких è semmo ci, però scopo la grazie. Cos'è fa un'è, non c'è, non c'è un'è. È un'è. Soli è sisa un'è, non c'è un'e. La mia è un' altività. Non c'è un'è, nel carro d'a back to the yeah and all'in. Ngo یہi non c'è il che è l'am hyvin in garantie, perché non è la pausa della gen話. Si non c'è un'è, cosa ne c'è un'è? Well, ho però anche i femmini perché non abbiamo bisogno di farlo. Così sono uguale a fare le case di farlo. Quindi vogliono fare i giovani, ma non c'è una cosa semplice. Non c'è una cosa che c'è, ma non c'è qualcosa che c'è, non c'è una cosa che è con noi. Non c'è lui. La primavera è stata una buona friendenza. ma che ci siamo abizioni da poi c properly le buone non c'è tanto che non c'è male con le balsette ma come la TA, hai ho ti farareà? non c'è mai ok, non c'è niente ma non c'è più il balsettino ma non c'è più il balsetto ma non c'è più l'alba ma non c'è più l'alba e abbiamo un agacore che fa tutto il produttivo e il distribuzione, il exchange, quel prodotto ma era un prodotto, a questo è quella di produttivo, allora è una cosa che si fai a fai talo, grazie todos le prodotti a tutti gli artisti, grazie a tutti gli artisti si stanno a dare un prodotto, ma a dare un prodotto a tutti, a non si scampato. ... ... Se ci sono un ragazzo, non so, ma non ci sono un ragazzo. È un ragazzo che non si ha fatto più di lavoro, non ci sono un ragazzo che conoscibano. La scuola è una scuola che non si è una scuola, non si è una scuola, non si è una scuola, non si è una scuola. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info che fòunga facing calmo ma non facolato pi ci fà framaamai a cre明ci ha frama�ato e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 ma non fa che non so che non so che ne ho abge dall'alto.. a dire che non si può fare istrano e' di aver guardato.. il fa tutto quello che basta... Rai la mia maranca... e'cheve maranca. in grado di maranca di maranca... e'cheve ma rappresentante.. e sta avendo il rosso.. so che non si può fare la mia soluzione... ma non si può fare la mia soluzione... Adesso la mia mamma è stata una grande buona, il mio figlio dei paesi. Poi abbiamo riuscito a quella filosofa, anche la teologia dopo un Papa Augustino. E' un catoricano, con molti, ho detto quelli che io non avremmo difendere, ma lui. e riusciano, e che si vede lo stesso, si vede lo stesso, ma ilمase l'acqua le miagra, che truffi, è come la riunisica. Quindi il DGT è sanato giustino, è confronto a chi ha detto. Quello lago, qui cae che iai, ha efflamato tutto il mondo e tutto il mondo, ha chiesto. Quello lago, qui cae che iai, ha efflamato tutto il mondo, che iai non sono riusciti, non sono riusciti, non sono riusciti, non sono riusciti. E se fosse riusciti dalla sua stagione, non sono riusciti, non hanno un'occhiore, che ha effettato nostro, e ha effettato nostro, che non ha chiesto di fatti, che ha effettato da quella di Egiscia, non si è scattato, non ho fatto, e specialmente la scena del lavoro e ho fatto non solo, ma non butissero di un lavoro ma ho fatto con un'azique, ma sono un'azienda che ho fatto fatto e già ancora accadre tutto quello che si ha fatto, ma non c'è attravole che ho fatto quello che ho fatto, ma non voglio farlo.